uno di cui siti referentari dice liberalizziamo la droga io sono contrario perché cominci così con la fumatina e finisci così con la coloreina sbattuta per terra lo so perché per la mia esperienza magistrato per la mia esperienza da poliziotta per quando ne ho visti buttate per terra morti per che a tutti hanno cominciato col naso e hanno finito in pena io sono contrario e vi invito quindi quando ci sarà il referendum a votare contro e faremo parte del comitato per il